Salve Presidente Mo-ra-ti, ci dica qualcosa, cosa ne pensa della situazione societaria dell'Inter e della famiglia Zang? Il Zang è una persona molto simpatica, una persona distinta per conto mio, una persona abbastanza importante, ma insomma, l'Inter è una situazione poco simpatica, insomma, quando però non riesce a vendere il Zeromario, insomma, che ha preso la cosa, le situazioni che ha fatto prima che ha fatto i danni, insomma, è normale. Presidente, invece, cosa ne pensa di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter? Sì, sì, no, ma gli Zeghi mi è poco simpatica, insomma, per quel cinque bello, insomma, c'è difficile da ricordare che ce l'ha fatto un gol, insomma, se c'è poco simpatica, insomma, spiazza il Presidente! Ma sì, però con la sicurezza dei Zeghi, se è un bravo allenatore, posso fare bene che se le situazioni sono difficili, ecco, allineare una squadra che per i giochi è più alto, insomma, dispiace per Giuseppe, ma da Special One a Special One un attimo, insomma. Grazie, Presidente!